Mario Cipollone. Venerdì 6 maggio 1527, i Lanzichenetti entrano a Roma. Raccontano che fossero 30.000, uno ogni due abitanti, e per di più 12.000 erano Lanzichenetti. I romani impararono presto a distinguere questi dagli altri. A capire che erano doppiamente rozzi e rapaci, puzzolenti e feroci. Parlavano una babele di lingue e dialetti incomprensibili. Dell'italiano conoscevano poche parole, per lo più imprecazioni e bestegnie. Ma, anche quelli che si limitavano a emettere suoni gutturali da trobloditi, si facevano capire, e come. Da venerdì 6 maggio al sabato della settimana successiva, satteggiarono e incendiarono, stuprarono e uccisero. Per nove lunghissimi giorni. Tre volte quelli canonici cui, a suo tempo, si erano invece attenuti i tanto vituperati goti di Alarico che, peraltro, non avevano superato certi limiti. I Lanzichenetti e gli altri 18.000 soldati imperiali del cattolico Carlo V d'Asburgo invece li oltrepassarono tutti. Non si fermarono davanti a niente e a nessuno. Non si fermarono un giorno, un'ora, un minuto. Nemmeno la domenica. Indifferenti alla primavera che, nulla sapendo, anche nel 1527, come ogni anno era avvivata a rivestire di teneri fiori e foglie i prati, gli alberi e i cespugli di Roma. E fu solo l'inizio. Perché nei mesi seguenti e fino al 18 febbraio dell'anno successivo, ripassarono a setaccio la città. Ma non in modo sistematico, con la precisione teotonica che, dopo la sfuriata iniziale, uno si sarebbe aspettato. Al contrario, si incrociarono e soprapposero. Tornarono più volte dove erano già stati. Per contendersi il filo d'erba trascurato la volta precedente o appena ricresciuto, per riscuotere quello che era stato loro promesso, per prenotare, con sequestri e ricatti, quello che doveva crescere. Comunque impunemente. Chi poteva fermarli? Ne avevano diritto. Da mesi non venivano pagati. Furono mesi d'inferno per i romani che li videro piombare ovunque, senza bussare e chiedere permesso, sfondando porte e finestre, a volte calandosi dai tetti e dai camini. All'improvviso e a tutte le ore. Di giorno, la sera, a notte fonda. Qualunque cosa uno stesse facendo. Stesse buttandosi da una finestra per la disperazione, scavando una fossa in cortile dove nascondere l'argenteria o rannicchiato in un cantuccio a raccomandare l'anima a Dio. Urlando come ossessi e bestemmiando la Madonna, gli angeli e tutti i santi del paradiso, i ruttairo dentro ogni casa, stanza, ripostiglio e bugigattolo. Dentro ogni stalla, fienile, rimessa, stamberga, osteria o porcilaia. Dentro tutti i palazzi e ville suburbane. A Villa Farnesina, custode degli amori del banchiere Agostino Chigi e del trionfo della Galatea di Raffaello, le guide indicano ancora oggi i segni che lasciarono sui muri. Le residenze dei Colonna, dei Gonzaga e dei Farnese, nonostante i proprietari stessero col re di Spagna, dalla loro parte, si salvarono per miracolo, spesso scendendo a patti. Senza santi protettori non si salvarono invece gli ospedali, i ricoveri e i conventi, le basiliche, le chiese e gli oratori. E dove era stato esposto, come ultimo ed estremo baluardo, Gesù sacramentato, il ruttaero con più astio, col disprezzo luterano verso quanto puzzava di superstizione e cattolicesimo. A Santa Maria del Popolo per esempio, dove devastarono la tomba di Vannozza Cattanei, l'amante di Papa Borgia, considerato l'anticristo, la reincarnazione del diavolo. Nemmeno l'immagine di Maria Salus Populi Romani che più volte aveva salvato Roma dalla peste, dai barbari e dal fiato pestilenziale di un drago poté opporre loro resistenza. La miracolosa icona non protesse nemmeno la sua dimora. Santa Maria Maggiore fu profanata, spogliata di calici, crocefissi e candelabri, degli arredi e paramenti più preziosi. Compreso il reliquiario che conteneva la culla del Redentore. Per fortuna, non ne toccarono il contenuto. Non sapevano che farsene i luterani di quei quattro pezzi di legno d'acero. Quanto all'oro del soffitto, evidentemente valutarono troppo difficile e laborioso raschiarlo. Se ne andarono dopo dieci mesi, quando scoppiò la peste e comunque non c'era più nulla da razziare e nessuno da ricattare. Lasciarono la città prostrata a terra, violentata, ridotta a 20.000 abitanti. Poco più di un terzo rispetto ai 55.000 che l'abitavano a maggio dell'anno prima. Quanti, a suo tempo, ne aveva trovati Martino V maiuscola. L'evento segnò la fine del rinascimento a Roma che proprio nel 1420 e con Martino V maiuscola aveva avuto inizio. Niente fu come prima. A una stagione accecata dal sole, sensuale, piena di slanci, di ardimenti e anche di sfrontatezze ne subentrò una riflessiva, autunnale e intristita. Talmente pudica che, in Vaticano, arrivarono a mettere le braga ai nudi della Cappella Sistina. Senza più commesse, privi di ispirazione, decine di artisti lasciarono la città portando la maniera di Raffaello e di Michelangelo in altre corti italiane ed europee. I papi e la curia, perso il senso di onnipotenza e di impunità, avviarono una profonda riflessione sulla loro missione. Naturalmente senza scapicollarsi, con circospezione e i tempi imposti dalla delicatezza della materia. Impauriti da quanti consideravano il loro ruolo di intermediari tra la terra e il cielo, faticosamente conquistato e difeso per secoli con le unvi e con i denti, non solo inutile ma dannoso. E fu solo a pericolo scampato o almeno circoscritto, fu solo nel 1542, che Paolo i, 15, 34, 15, 49, ha consentì di discutere la questione a Trento. Successivamente.